Massimo Oddo aveva immaginato un inizio di nuovo anno meno complicato, almeno sotto il profilo della disponibilità degli uomini. Ed invece la mala sorte torna ad accanirsi contro il Delfino e l'infermeria si riempie. Dopo il rinvio della gara con la Fiorentina, il tecnico Biancazzurro ha perso Bovo e Zampano per almeno due settimane e ieri Campagnaro e Vittorini sono andati KO nel giro di neanche un quarto d'ora nel test con il Teramo. Tenuto conto che Fornasiere e Gionber non sono recuperati e proseguono il lavoro differenziato e che Biraghi sarà squalificato, ecco che si profila una vera e propria emergenza difesa. Nel tardo pomeriggio di ieri, peraltro, si è appreso del dietrofront dei turchi del Casimpasa che hanno rispedito al mittente Dario Zuparic, trasferimento saltato a sorpresa dopo che il difensore croato aveva salutato sui social i tifosi del Pescara. Un fatto che può sembrare manna dal cielo, visto il momento, ma non è detto che Massimo Oddo voglia contare su un giocatore che stava diventando un ex e che, peraltro, negli ultimi giorni ha lavorato a basso regime per i postumi dell'influenza. Se gli esami dovessero confermare gli stop di Vittorini e Campagnaro, Oddo potrebbe rivedere l'ipotesi della difesa con i tre centrali e virare su una difesa a quattro con l'inserimento del baby Maloku assieme a Coda, Stendardo e Crescenzi. Problemi all'inguine potrebbero mettere K.O. per un po' anche Bruckman. Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma in mediana le alternative non mancano in attesa del transfert per Kubas. Intanto sul fronte mercato, oggi a Milano per l'Assemblea di Lega, il presidente Sebastiani ratificherà gli arrivi dalla Juventus di Mattiello e Castanos previsti per la prossima settimana e riaprirà sempre col club bianconero la pista Mandragora. Previsto un incontro anche col PSG per valutare il presido dell'attaccante francese Augustin. Sul fronte uscite, l'emergenza difesa blocca al momento eventuali ipotesi di trasferimento dei vari Vittorini, Ghiomber o Fornasier, in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Intanto, dopo domani c'è il match proibitivo del San Paolo contro Napoli in grandi condizioni. 17 punti nelle ultime sette gare e migliore attacco della Serie A con 42 centri. Il tecnico Sarri, privo di Gülham, Kulibari e Delcaduri in Coppa d'Africa, deve valutare le condizioni dei difensori Strenic e Kirikesh. In caso di forfè, pronti Maggio e Tonelli. In avanti pochi dubbi su Insigne, Mertens e Cayecon.